ben ritrovati di nuovo su reviewing you vi vado a mostrare questo acquisto che ho appena fatto su amazon ad un prezzo davvero competitivo vi lascio quindi il link in descrizione si tratta di una decorazione per casa o per ufficio che serve diciamo a bruciare funge da bruciatore per la cera e quindi a profumare anche l'ambiente o comunque si può utilizzare per chi fa meditazione yoga o si vuole rilassare come vedete ha una sorta di statuina il buddha in preghiera che giace su questa specie di sasso e dietro ci sono dei cannetti guardate i dettagli sono veramente fatti bene abbiamo un colore rame misto a qualche sfumatura bronzea e poi abbiamo qua il porta candeline il porta lumino in vetro e qui sopra abbiamo invece questo piattino in ceramica di un rivestimento color panna questa catenina in un color oro che si va attaccare sopra e una volta che si accende la candelina qua sotto si mette la cera al di sopra che andrà per induzione di calore a sciogliersi a profumare l'ambiente faccio vedere un po più da vicino i dettagli e lo faccio anche vedere da dietro come vi dicevo è una resina dura molto solida secondo me per chi vuole decorare il proprio ambiente domestico l'ufficio o comunque per chi fa meditazione yoga o anche per chi vuole fare che ne so un regalo a qualcuno e secondo me un'ottima idea un ottimo prodotto sicuramente da tenere in considerazione link in descrizione come sempre l'altezza sono 13,5 centimetri e se avete domande non esitate a pormele